si sono c'è una batteria di mortai per indebolire il pericolo la prima rapica in arrivo ora non puoi mollare adesso gente non avremo altre occasioni e' arrivato e' arrivato e' arrivato il Oh, un contacto! Sistema attivato! Mai visti valori del genere. Viene dal terminale. Va là dentro e cerca di individuare la sorgente. Sistema attivato! 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 Alfa Alfa Questa è 50 Sono andato a far subito l'avete A presto A presto Sì A trovare Fine trasferimento C'è un mare di dati da analizzare Ci vorrà qualche minuto Radio nemica rintercettata La divisione è sul posto Non fateli avvicinare a quell'aereo In alcun modo Qualunque cosa stiano proteggendo È qualcosa di preoccupante Controlla l'aereo Sì Mamma mia Molto bene Molto bene Molto bene Agente fuori combattimento Agente fuori combattimento Agente ucciso Agente ucciso Ha un agente saluto La nesca non se l'ha neanche guardata No un po' se l'hai guardata No un po' se l'hai guardata Mamma mia non sparavigliati E' arrivata una botta Un po' se l'hai guardata 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 Un po' di l'altro lab Mh-mh ... Trasmessi dall'Izac Un razorback deve essere il nome Del nuovo sistema d'offesa mobile Portato dai Black Task Di sicuro è un veicolo Ma non si parla Del suo uso in combattimento Dobbiamo farlo saltare in aria comunque cosa danno di buono aspetto golan con ultra pericoloso forse il razorback ancora nella zona di scarico principale supera l'area bagaglie e il centro commerciale è effettivistato consideratelo morto state tutti pronti al contatto la parte della partita è un fianco la parte Alla prossima 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 Alla prossima